Quella che doveva essere la partita della vita, della svolta e quant'altro, si è invece rivelata come l'ennesimo flop di una stagione decisamente costellata da più bassi che alti. Dopo due vittorie consecutive, Barcellona torna a conoscere l'amaro sapore della sconfitta al termine di quello che era stato definito, probabilmente a torto, visto il bagaglio tecnico di Biella, uno scontro salvezza. Troppo morbidi giallorossi nell'impatto con la gara, troppo scarichi a rimbalzo e poco presenti in difesa. Biella invece ha fatto leva sull'estro di Ol per le sue caratteristiche, troppo difficile da tenere in marcatura. Abbiamo parlato mille volte dell'importanza di questa partita qui, l'importanza di rimetterci in carreggiata con la possibilità di raggiungere Omenia in classifica, di mettere un 2-0 con Biella. Era una partita che aveva un'importanza e magari, probabilmente su qualcuno di loro, ha creato un ulteriore stress nervoso, rendendo molto al di sotto di quello che mi aspettavo che potesse rendere. Ma fondamentalmente non possiamo andare in campo con questo tipo di atteggiamento, questa è purtroppo una caratteristica che si ripete continuamente e noi facciamo una gran fatica su questa cosa qua, facciamo una gran fatica. Abbiamo avuto scarsissima pericolosità sul perimetro, i numeri sono abbastanza impietosi, per cui l'abbiamo fatto sul perimetro 4 su 21 totale da 3 punti, abbiamo avuto 43 da 3, e sicuramente c'è mancata un'alternativa sul perimetro che era una cosa che questa squadra doveva avere.